Il Venezia torna in Serie B e è bastato il pareggio 1-1 col Fano alla squadra d'Inzaghi che realizza il sogno rincorso dopo retrocessione e fallimento. Il Partito Democratico tende la mano alla maggioranza per la costruzione del nuovo stadio a Tessera. Ferrazzi appoggeremo la giunta. Venezia e Iesolo sorvegliate speciali per le vacanze pasquali, intensificati i controlli per il rischio attentato. Il Patriarca ci siamo scoperti in pericolo. La famiglia di Alberto Bettini, il 15enne morto nell'incidente stradale a Camponogara, ha concesso la donazione degli organi martedì funerali. Movimento 5 Stelle all'attacco in Consiglio Comunale sul dossier presentato da Brugnaro all'UNESCO. Venezia rischia l'esclusione dal sito. Stato ritrovato al confine tra Slovenia e Croazia con le targhe già ripulite, il pullman turistico che era stato rubato ieri a Iesolo. Tiro di vite contro chi non paga il biglietto. Il governo approva il decreto che prevede l'aumento esponenziale delle sanzioni per chi viaggia in trame in autobus senza biglietto. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia. La maestra, dunque l'avete sentito nei titoli, la notizia è di poco fa. Il Venezia è tornato in Serie B al termine di un'attesa durata 12 anni. La città è in festa. Il Venezia è in Serie B, la città è in festa. Un traguardo inseguito da 12 anni che va oltre l'evento sportivo in un progetto di sviluppo che prevede anche la costruzione di un nuovo stadio a Tessera e che procede a ritmi serrati per gli arancio-nero-verdi e la seconda promozione consecutiva. Al Penso col Fano bastava un pareggio per distaccare il Parma, quel tanto che basta conquistare la certezza matematica della promozione e la partita è finita 1-1. Al vantaggio di Moreo al 38esimo del primo tempo, gli ospiti hanno risposto nella ripresa con Capezzani, un ottimo Venezia, tante le occasioni da gol, una prestazione che ha legittimato una stagione da incorniciare. La campagna abbonamenti era partita con l'immagine di Giotta Coppina e Pippo Inzaghi, riuniti in una stretta di mano al motto di Torniamo a Ruggire, una promessa mantenuta. Calcisticamente parlando, il Leone di San Marco esce finalmente da anni travagliatissimi, a partire da quel 2005, Annus Orribilis, in cui la squadra fece l'ultima apparizione in Serie B, una stagione che si concluse mestamente con la retrocessione e il fallimento. Ricordi amari che appaiono lontanissimi di fronte ai risultati di oggi. Prima della partita col Fano, il ruolino di marcia degli arancio-nero-verdi segnala 23 vittorie su 34 partite, una cavalcata trionfale verso l'accesso diretto alla Serie B, nella quale le appena tre sconfitte e gli otto pareggi appaiono semplici incidenti di percorso. 54 gol fatti, assieme al Parma miglior attacco del girone dopo il Pordenone, ed una difesa ermetica, al passivo appena 25 reti, nessuno ha fatto meglio. Nel calcio non c'è nulla di scontato eppur partendo tra le favorite, il Venezia ha dovuto lavorare sodo per guadagnarsi un risultato che proietta la squadra in una dimensione più consona ad una città e ad un pubblico come quello di Venezia e Mestre, in attesa di togliersi nuove soddisfazioni, magari in un nuovo stadio. Nuove soddisfazioni in un nuovo stadio e su quel versante in Consiglio Comunale al progetto arriva anche l'approvazione e il sostegno del Partito Democratico. Il nuovo stadio va fatto in maniera molto rapida, nel quadrante di Tessera. La strumentazione urbanistica da noi voluta con l'approvazione del PAT prevede esattamente questo. E finalmente dopo anni di chiacchiere con l'approvazione del PAT stesso, che è il vecchio piano regolatore, per usare un termine più noto, questa cosa è possibile. Il nuovo stadio del Venezia nel quadrante di Tessera ha l'appoggio del Partito Democratico. Pur sedendo tra i banchi dell'opposizione in Consiglio Comunale, il PD tende la mano alla maggioranza ed è pronto a sostenere il progetto. La costruzione di un nuovo impianto moderno e funzionale è qualcosa che in città si attende da tempo ed ora sembra finalmente sul punto di partire. La strumentazione urbanistica è a posto. C'è una nuova legge, che ormai ha tre anni, proprio per agevolare la costruzione degli stadi, la cosiddetta legge del Rio sugli stadi, che consente delle procedure assolutamente velocizzate, in particolare agevola le squadre che fanno delle offerte al Comune per la costruzione degli stadi, proprietari delle squadre di calcio. Ci sono tutte le fattispecie dunque per lavorare insieme a livello trasversale in questo Comune perché la nostra città abbia finalmente uno stadio all'avanguardia. A supporto del fatto che la costruzione del nuovo stadio appare davvero vicina, c'è anche la previsione delle opere complementari. È stato previsto già dal 2004 la fermata dell'SFMR, si chiama fermata stadio, esattamente per questo motivo qui. D'altro canto, in quello spazio lì ci sono tutte le condizioni, perché c'è già la bretella autostradale, ci sarà la fermata dell'SFMR, il collegamento d'Ese a Punto Tessera per arrivare all'aeroporto. Ci sono tutte le condizioni per far crescere in maniera veloce lo stadio che la nostra città merita. Il berghe vicino è al tutto esaurito a Venezia per le vacanze di Pasqua e si rafforzano i controlli delle forze dell'ordine in città, ma non solo. Venezia presa d'assalto dai turisti per le vacanze pasquali è una sorvegliata speciale dalle forze dell'ordine. Gli ultimi attentati in Europa e in Egitto hanno fatto alzare la guardia in una città che si è improvvisamente scoperta potenziale obiettivo del fondamentalismo dopo il blitz col quale le forze dell'ordine hanno smantellato a San Marco una presunta cellula jihadista composta da giovani kosovari pronti, secondo gli inquirenti, a preparare un attentato sul ponte di Rialto. I fatti di questi ultimi giorni ci fanno dire che dobbiamo continuare su questa strada, su questa attenzione. Noi ci siamo. Nelle ultime intercettazioni rese note dalla Nuova Venezia, anche subito dopo l'arresto i giovani kosovari continuavano ad esprimersi in termini molto minacciosi augurando ai poliziotti che Dio li distrugga ironizzando sulla loro soddisfazione dopo il blitz. Una sicurezza che però sembra sparire col trascorrere delle ore. In altre intercettazioni i toni sono estremamente violenti taglierei la testa agli infedeli, ha detto uno degli arrestati. E durante il blitz sono stati sequestrati due coltelli che gli indagati tenevano nelle tasche dei vestiti. Per Pasqua e Pasquetta la polizia ha aumentato i controlli anche sul litorale Iesolano. I controlli hanno riguardato i tratti di spiaggia di fronte a Piazza Mazzini, Piazza Aurora e Piazza Milano. Nella notte sono state identificate 75 persone, 28 di queste avevano precedenti per reati contro il patrimonio legati alla droga. Ed è il pericolo rappresentato dal terrorismo anche a Venezia. Ha parlato nel suo messaggio d'auguri ai fedeli, la patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. Pasqua è la festa della liberazione dalla paura, dall'odio, dalla violenza e dal peccato. È un messaggio d'auguri con un riferimento esplicito al pericolo di attentati terroristici anche a Venezia, quello del patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Guardiamo con la virtù cristiana della fortezza, ha detto Monsignor Moraglia, agli ultimi drammatici fatti della Siria, di Stoccolma e delle comunità cristiane d'Egitto. Il terrorismo è come una guerra diffusa a livello mondiale, ha aggiunto, sia pure col sollievo per il grave pericolo scampato, grazie all'azione della magistratura e delle forze dell'ordine a cui va il nostro ringraziamento, abbiamo drammaticamente compreso che anche Venezia non è estranea a tali dinamiche e abbiamo provato sulla nostra pelle la sensazione di essere fortemente a rischio come tante altre parti del mondo. A Pasqua siamo chiamati a dar spazio alla sola parola che ci risolleva ed è in grado di sradicarci dalla paura, ha concluso il patriarca di Venezia. È una nuova occasione per ripartire, è un'opportunità che ci è data come grazia. Cambiamo argomento, andiamo a Campo Nogara. La famiglia di Alberto Bettini, il quindicenne, morto in un incidente stradale, ha concesso la donazione degli organi. Gli organi di Alberto Bettini, il ragazzo di 15 anni morto all'ospedale di Mestre per i gravissimi traumi riportati nell'incidente in moto accaduto l'altra sera a Campo Nogara, riviveranno. I genitori del giovane hanno dato l'assenso all'espianto degli organi che verranno donati a malati in attesa di trapianto. Gli interventi sono stati programmati nelle prossime ore. Alberto Bettini era uscito dalla messa due sere fa e stava rientrando a casa in sella la sua moto da enduro quando per cause, in fase di accertamento, il mezzo fuori controllo è finito fuoristrada contro un ponticello in cemento. L'impatto, violentissimo, ha causato al giovane diversi traumi alla testa e al torace. Il quindicenne è ispirato nella notte all'ospedale All'Angelo. Dai primi riscontri sembra che il ragazzo guidasse la moto senza avere conseguito il patentino, circostanza che potrebbe avere conseguenza a livello di accertamento della responsabilità sui genitori. Alberto Bettin amava lo sport ed era appassionato subacqueo, frequentava il liceo ed era figlio unico. I funerali saranno celebrati martedì prossimo alle 15 nella chiesa di Prozzolo di Camponogara. E allora ci spostiamo a Chioggia perché il comitato No GPL ha presentato un nuovo esposto in procura. I cittadini sono arrabbiati e i toni della protesta potrebbero alzarsi se la Soco Gas non sospenderà i lavori di costruzione dell'impianto in Val d'Ario a Chioggia. Fra poco più di un mese, il 26 maggio, scadranno i due anni di tempo concessi dall'autorizzazione ministeriale a Soco Gas per realizzare l'impianto e sembra escluso che l'azienda possa riuscire nel suo intento. Soco Gas chiederà una proroga. Il comitato No GPL a Chioggia chiede che non venga concessa perché quell'impianto rappresenta un pericolo. Il progetto originario prevede un bunkeraggio, quindi sostanzialmente un grosso distributore di carburante rivolto alla marineria, quindi alle navi, ai pescherici, alla nautica da riporto. L'ampliamento, che non può essere considerato tale, ma noi ribadiamo si tratta di un nuovo impianto, lavora GPL che è rivolto al riscaldamento di tutta la pianura padrana. Per il comitato No GPL a Chioggia si tratta di un progetto che mette a rischio la pubblica incolumità. Attualmente il regolamento di navigazione sulla bocca di porto di Chioggia vieta il transito delle navi gasiere perché il canale portuale passa ridosso della città e del suo centro storico. L'impianto stesso dista a 250 metri dalle abitazioni, da scuole e da altri siti importanti. È un impianto definito per legge a rischio rilevante. Con l'esposto in procura il comitato chiede e venga fermato quello che viene definito uno scempio irreversibile. La mobilitazione con incontri di piazza e iniziative pubbliche continua. La gente però sta cominciando ad arrabbiarsi un pochettino proprio per quello che dicevo prima. Non è possibile vedere che i lavori continuano nel momento in cui ci sono tutte queste anomalie. E' stato a Caffarsetti in Movimento 5 Stelle all'attacco del dossier presentato dal sindaco Brugnaro all'UNESCO per scongiurare il pericolo che Venezia venga retrocessa tra i siti a rischio. E' un dossier fatto così, di parole, riempito di parole dove si dice, si dichiara una volontà di intervenire ma l'UNESCO non chiede una vaga volontà di intervenire chiede soluzioni concrete e questo dossier non ne contiene neanche una. Il dossier che il Comune ha presentato all'UNESCO sui progetti per la tutela e il rilancio della città è vago e generico secondo la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Elena Larocca specchio di un'amministrazione che per Venezia sta facendo poco. L'UNESCO aveva fatto presente all'amministrazione veneziana che la gestione cittadina così com'è non va bene presenta delle criticità perché la città è fragile e va difesa dai processi che sono in corso che sono il turismo di massa, la residenzialità, l'esodo della residenzialità e la presenza delle grandi navi in laguna, diciamo quelli più gravi. Per il Comitato dell'UNESCO Venezia è di fronte ad un tragico bivio continuare a freggiarsi del titolo di patrimonio dell'umanità o essere retrocessa nella poco lusinghiera categoria dei siti a rischio vale a dire luoghi che corrono seri e specifici pericoli per intenderci accanto a località dell'Afghanistan e della Palestina. Per questo il Comune ha dovuto presentare un dossier a Parigi sulle politiche in atto in città un programma di interventi promosso dall'UNESCO secondo il sindaco Luigi Brugnaro una generica dichiarazione d'intenti per Elena Larocca. Quindi si dice che si stanno studiando delle soluzioni per i flussi ma l'UNESCO non vuole uno studio di soluzioni vuole soluzioni concrete. Poi hanno argomentato per esempio richiamando il bando sulle periferie a cui hanno partecipato come se questo fosse stato un risultato ma si sono classificati tra gli ultimi. Invece a Mira in Comune ci si prepara le elezioni allora questa sera andiamo a conoscere la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle Elisa Benati. È Elisa Benati la candidata che il Movimento 5 Stelle presenta per la carica di sindaco a Mira ha 52 anni insegnante e lei l'ha designata alla successione del collega di partito Elvise Maniero dopo 5 anni di attivismo e di impegno nel Movimento e soprattutto nel territorio. È un'eredità importante che raccolgo ed è anche in questa eredità che si evidenzia quella che è la diversità del Movimento 5 Stelle. Raccolgo questa eredità da un ragazzo di 30 anni che potrebbe essere mio figlio quando solitamente succede il scontrario. Come da tradizione sono stati i cittadini a scegliere. È il cittadino che agisce, che deve agire. Prova ne è per questa amministrazione il bilancio partecipato, la modifica dello statuto comunale che darà modo ai cittadini di esprimersi attraverso petizioni o anche referendum a cuoro zero. Molteplici le priorità a cui dare seguito a partire dalla manutenzione, dell'illuminazione pubblica degli edifici scolastici, degli impianti sportivi senza scordare naturalmente il settore sociale. Il segno della continuità potrebbe essere il suo motto della campagna elettorale? Un secondo tempo di questa amministrazione a 5 Stelle. Allora parliamo di un furto inconsueto compiuto a Iesolo, risolto poi dalle forze dell'ordine. I poliziotti del commissariato di Iesolo sono stati premiati per l'efficacia della rapidità del loro intervento. Proprio la tempestività della segnalazione alla Banca Dati Internazionale ha impedito la sparizione di un pullman turistico. Il mezzo, utilizzato da una committiva francese in vacanza a Iesolo, era stato rubato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Già nel pomeriggio di ieri, però, l'autobus è stato individuato nelle vicinanze del confine sloveno-croato. Il pullman era in procinto di varcare il confine con la targa francese sostituita. E una stangata, si pronuncia una stangata per chi verrà sorpreso senza biglietto nei mezzi pubblici. Il governo, infatti, ha deciso di riprendere in mano uno dei decreti attuativi della riforma Madia che erano rimasti nel cassetto dopo la bocciatura della Corte Costituzionale. Dunque per chi viaggia senza biglietto si pronunciano tempi duri. Noi abbiamo chiesto il parere su questo provvedimento a maestra e Marghera. Il governo ha alzato la multa a 200 euro per chi non paga i biglietti sui mezzi pubblici. Fa bene? Diciamo che sarebbe bene per tutti pagare. Io penso che sia un po' esagerato, però penso che nonostante tutto sia anche un po' giusto. Tempi duri per i portoghesi. Stavolta il governo pare intenzionato a fare sul serio a punire severamente chi viene trovato sprovvisto di biglietto a bordo dei mezzi pubblici. La multa prevista potrà arrivare fino a un massimo di 200 euro e per l'esattezza dovrà essere pari a 60 volte il biglietto ordinario in mancanza di legge regionale cui è demandata la definizione delle sanzioni pecuniarie. Siamo così a conoscenza del fenomeno e secondo me è abbastanza ampio. Importante. Sì. Secondo lei? Importante, sì. Si potrebbe fare qualcosa per chi paga soprattutto, per rispetto per chi paga. E già perché a rimetterci è sempre chi paga regolarmente biglietto o abbonamento. C'è molta gente che approfitta, che se ne frega praticamente. Ci sono pochi controlli, dovrebbero controllare di più sicuramente. E anche mettere a disposizione più possibilità perché alcune volte le tabaccherie che sono l'unico posto dove li puoi comprare sono chiuse. Con molti che vengono da fuori o cose esisterà sempre questo problema. Nella vita dobbiamo rispettare le leggi. Le leggi sono fatte per noi e noi per le leggi. Devono pagare tutti quanti, noi paghiamo le tasse e tutto. È giusto che siano, io per esempio ho l'abbonamento e ho sempre il biglietto di riserva. Perché magari trovo qualche signora che senza, ho detto signora le do il biglietto come lo danno a me. Sull'utilità della sanzione c'è molto scetticismo, soprattutto fargli addetti ai lavori. Servirà qualcosa? No. Perché non paga neanche prima, è qui che non paga, non paga neanche 200 euro. Abbiamo aperto il nostro telegiornale con la promozione del Venezia e dal calcio passiamo al basket perché questa sera gioca anche l'umana Reier, pronta a rifarsi dopo la sconfitta con Milano. L'obiettivo è quello del piazzamento nelle prime quattro posizioni. Le idee sono chiare, l'abilità degli uomini di coach De Raffaele consentono di guardare con fiducia al match di stasera contro il Brescia. Affrontiamo Brescia, che è una squadra che ha raggiunto meritatamente la salvezza la scorsa settimana. L'affrontiamo in casa loro, un campo decisamente caldo, ma caldo di grande entusiasmo per essere una matricola e per l'entusiasmo che porta a questo fatto. Quindi un campo corretto, ma caldissimo. Un campo difficile quello del Brescia, dove sono cadute tante squadre importanti. Noi l'affrontiamo con la consapevolezza che per noi è una tappa importante per proseguire questo cammino e questo obiettivo. Si rinnova come ogni sabato l'appuntamento con il Cinema di Rete Veneta. Questa sera a partire dalle 21.05 vi proporremo il film Gli ordini sono ordini, diretto da Franco Giraldi con Monica Vitti. Domani alle 9.05 il Santo Rosario a seguire la parola del Signore alle 10 e la Santa Messa Solenne di Pasqua dal Santuario di Motta di Vivenza. Alle 14.15 idea formazione a seguire la TV dei ragazzi. Alle 17.45 agricoltura, alle 20.05 videomotori. Bene, con questo per stasera da Venezia è tutto. Nell'aguarvi un buon proseguimento di serata vi lasciamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Le previsioni per domani, in prevalenza soleggiato fino alle ore centrali, in seguito attività cumuliforme in aumento a partire dalle zone montane. Possibili rovesci ad occasionali temporali nel pomeriggio sulle zone montane e in serata anche in pianura. 20 moderati tesi settentrionali sulle zone montane, con possibile fön nelle valli. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.